Siamo qui con Di Marino e Sorrentino, migliori in campo del match vinto dai Faccaldo per 10 a 1 contro i non lo so Cosa avete a dirci su questa partita? Che vabbè, iniziaremo tutte le altre partite Sono stato sfortunato all'animazione Il portiere ha parato, poi abbiamo ingranato Il portiere ha parato, insomma, ha parato di remerda L'apparenza è ingrante Sorrentino, tu che cosa hai da dirci? No, sì, sì, abbiamo fatto una buona partita, non è scontata questa vittoria Ci stiamo trovando bene con questo tanto in mano davanti Però una menzione anche per Peppe che ha fatto 4 gol oggi E anche a Dario Grande gol Anche a Dario che è stato disponibile a venire e a continuare Vevo dire, Sorrentino deve uscire due partite questa giornata Una meglio cancellata da Giannales del torneo Esatto, vabbè, un in bocca al lupo, vai, fa caldo Crepi, crepi Va bene Sergio 5, una dedica È una giocata, una giocata Grazie, grazie Ah, Dario Grazie a tutti Grazie a tutti